Una bomba ha distrutto il locale aperto di recente a Via Popilia, a Cosenza. I gnoti, verso le tre di questa notte, sono entrati dal retro del locale collocando l'ordigno al suo interno. Forte la deflagrazione che ha letteralmente distrutto il bar preso di mira dai criminali, scagliando una porta a 30 metri di distanza. Tanta paura per gli abitanti del palazzo, ma nessun ferito. Per un miracolo nessun mezzo passava davanti al locale posto all'angolo del trafficatissimo svincolo per la sopraelevata. distrutta anche la lavanderia situata di fianco al bar. Sul fatto indagano i carabinieri intervenuti sul posto.